Siamo tutti qui? Siamo tutti qui? Siamo tutti qui? Siamo qui qui? Sappiamo che dopo Natale e San Nicola sono stati messi d'accordo e hanno portato la macchina. Sì, sappiamo che Sv. Mikołaj ha usato questa macchina di Brata Cucurale. Si, il sorriso di questi bambini per noi è un bel regalo che ci potevate fare. Quindi veramente grazie a tutti. Ovviamente anche le maestre che fanno sorridere i bambini. Il sorriso di bambini è un bel regalo per tutto ciò che facciamo. Przede ovviamente delle persone che ci occupano qui ci sono stati. Siamo insieme a Marta auguriamo un anno bellissimo che sia finalmente l'anno che porti la faccia. Grazie. 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 Grazie.